Salve amici del Centro Meteo Italiano. Finale di ottobre che potrebbe essere molto movimentato con diverse fasi di maltempo. Modelli concordi sul peggioramento in arrivo all'inizio della prossima settimana, quando una vasta saccatura atlantica dovrebbe gettarsi sul Mediterraneo centrale. Previsto anche un importante calo delle temperature, con valori sottomedie anche di 4-6 gradi e neve di ritorno sulle Alpi. A seguito il modello GFS continua a mostrare una serie di perturbazioni con la medesima traiettoria fino agli ultimi giorni di ottobre. Di diverso avviso invece l'europeo ECMWF, che per gli ultimi giorni del mese propone un vasto e robusto campo di alta pressione in espansione sull'Europa occidentale, con tempo più asciutto anche in Italia. Trattandosi di una tendenza seguita da tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.